preghiera in bergamasca delle città prima della lecce dedicata al nostro angelo custode perché alveglie sulla nostra anima in lecce mio quattro angeli gavrò due ipe e due alco la madonna in del mes o il signore in banda durma durma anima santa liga pura dei negoti nia dell'acqua o di fiamme e lo spirito santo che il te accompagna o diavolo brutta bestia va via di che che l'anima mia e le daga la a gesù e maria questa preghiera me la contata sulla memoria che la da 87 anni o il dè di santi stephen del 2010 che lei all'era imparata quando all'era amò una scelta dalla sua nonna